Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Associati olivicoltori ben ritrovati al numero 51 del periodico 22 dicembre 2023. Siamo entrati nel periodo invernale iniziato proprio ieri 21 dicembre. Le piante sono in fase di riposo vegetativo e la raccolta delle olive si sta ultimando. Approfittiamo di questo periodo per andare ad approfondire alcuni concetti di difesa fitosanitaria che sta cambiando, spinta dall'evoluzione tecnologica e da nuove esigenze che richiedono sempre più di contrastare i parassiti con un minor ricorso all'uso di sostanze di sintesi chimica. A questa necessità si aggiunge il cambiamento climatico, particolarmente in questa annata con estati molto calde, con mancanza di pioggia per molto tempo, con malattie causate da agenti patogeni che ci sono aggravati proprio in questi ultimi anni e che si adattano più facilmente delle piante di olivo. In quanto alle singole malattie sono importanti pertanto le conoscenze e una loro identificazione e i legami che legano la pianta dell'olivo a queste malattie perché è sempre più richiesta un'attenta professionalità e un'attenzione anche perché le proposte legislative della comunità europea tendono a ridurre nei prossimi anni del 50% degli prodotti fitosanitari e perciò sta influenzando i programmi di difesa e sono così in fase di applicazione strategie di contrasto ai parassiti con l'utilizzo proprio di sostanze di base. Ma che cosa sono queste sostanze di base? Sono prodotti che esercitano azioni di difesa ai parassiti anche se il loro uso principale non è come prodotto fitosanitario. Purtuttavia se impiegate possono svolgere benissimo funzioni come repellenti, come insetticidi, come infungicidi, come stimolatrici dei naturali meccanismi di difesa come ad esempio noi possiamo trovare la birra, il fitosano, il carbone vegetale, il bicarbonato di sodio oppure le oleine vegetali. Abbiamo poi i prodotti da biocontrollo che non sono dato altro che da funghi che da batteri e che da insetti che vanno a contrastare o eliminare la vita di agenti patogeni dati proprio da batteri, da funghi e da insetti che vanno a causarmi delle malattie alle piante dell'olivo. Quali sono? Ad esempio il tricoderma, il bacillus thuringiensis, la boveria bassiana, il bacillus subutilis. Perciò la difesa dell'olivo sarà sempre più orientata a integrare la difesa chimica di sintesi, peraltro sempre più sfondita dalle nuove normative, con questi prodotti di base e prodotti da biocontrollo. Perciò riportiamo in forma molto schematica quelli che abbiamo attualmente a disposizione, proprio per crearci una mentalità per affrontare il 2024 avendo già ben chiari i prodotti fitosanitari disponibili. Andiamo così a valutare le sostanze attive, peraltro riportate nei disciplinari di produzione, ripartiti per parassiti. Troviamo così i parassiti fungini, per l'occhio di pavone, per la liebra, per la piombatura, altri parassiti che il prodotto principale o il prodotto principe sono le sostanze che contengono l'ione rame, pertanto i prodotti rameici, che è presente un po' su tutte le attività di contrasto ai parassiti. Poi troviamo la dodina, troviamo tutti i prodotti triazolici, sono schemi che dobbiamo averli ben chiari nella nostra mente, mentre per i parassiti animali, gli insetti, mosca dell'olivo in particolare, ma anche la tignola, la margaronia che è emergente soprattutto in questo 2023, troviamo sostanze che sono a base di acetamipride, poi troviamo le deltametrine, che peraltro non sono state riportate nei disciplinari di produzione 2023, ma confidiamo che vengano riprese in questo 2024, e una serie di sostanze come per esempio le esche alimentari a base di spinosine, poi troviamo le xerelbite, tutti i prodotti nuovi, anche quelli di nuovo inserimento, come l'olio essenziale di arancio, che è stato inserito già nel mese di agosto per 120 giorni, ma che confidiamo che venga ripreso anche nel 2024. Sostanze attive che vanno a contrastare i parassiti, ma devono essere utilizzate dopo una attenta analisi che va effettuata con attività di monitoraggio, perché non abbiamo più le vecchie sostanze attive tipo i fosforganici, che avevano un largo spettro di azione, potevano essere utilizzate anche in periodi che non particolarmente contenuti, queste nuove sostanze attive vanno usate in maniera molto oculata, perché se vogliamo attivare un'attività di contrasto specifica contro i parassiti. E naturalmente non dimentichiamoci che abbiamo anche insetti che, sebbene presenti nel nostro territorio già da anni, con questi cambiamenti climatici diventano sempre più aggressivi. Abbiamo già visto la margaronia, ma abbiamo la cicidomia e poi soprattutto abbiamo la cimice asiatica, dove sembra concorrere notevolmente anche nella cascola verde delle olive. Perciò un quadro che va studiato attentamente ve lo abbiamo riportato nel periodico in modo che ci sia un approfondimento da parte del lettore. E adesso, per ringraziarvi per l'ascolto, augurandovi a voi e alle vostre famiglie un buon Natale, arrivederci alla settimana prossima. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.